Battaglia a colpi di emendamenti e ostruzionismo, quella che annunciano i consiglieri regionali di Forza Italia, Sospiri, Febbo e Gatti. Oggetto dell'attacco nei confronti della Giunta, le proposte contenute nel nuovo piano sociale regionale. In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, i consiglieri di opposizione hanno criticato il documento denunciando pesanti tagli al sociale e nessuna certezza sulle risorse disponibili per i prossimi due anni. Secondo i consiglieri di centrodestra sarebbero previsti infatti tagli per 5 milioni di euro sui ticket sociosanitari. Gli emendamenti presentati puntano nelle intenzioni di Forza Italia a prevedere specifici finanziamenti regionali tesi a garantire servizi dovuti nei confronti di persone che vivono una qualunque condizione di disagio. A seguire gli interventi dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo. Un piano sociale regionale che non c'è perché non ho mai visto uno strumento di erogazione dei servizi, tra l'altro in questo caso a categorie debole o debolissime, cioè quelle che si occupano dai minori ai portatori di handicap agli anziani soli che non reca la copertura finanziaria ma chiede un aumento di compartecipazione ai comuni dal 20 al 30 per cento. Il 30 per cento di che cosa se non ci si mette i soldi è un piano sociale di chiacchiere ma noi ovvieremo a questa difficoltà perché come è noto e grazie a voi sarà noto anche agli abruzzesi per me possiamo rimanere tutto agosto qui fino a quando non mettono i soldi per finanziare il piano sociale regionale. Quando poi si accavalano due province, quando entriamo nei territori montani io credo che forse qualcuno non tiene conto di questo, non tiene conto per esempio che un'operatrice sanitaria deve recarsi ad una località distante 50-60 chilometri per recarsi da una signora anziana che magari ha necessità di qualcuno che gli fa la spesa. Solo per questo servizio deve fare 50-60 chilometri ad andare e 50-60 chilometri a tornare. Credo che ci siano forse degli errori.